ciao a tutti ragazzi sono toxic e oggi giocheremo a gta 5 per vedere il nostro bellissimo peyote plant scusate se sono già animale però mi sono accorto che la registrazione non era ancora iniziata quindi magna ma la location è proprio questa guardate dovrebbe essere più o meno qua dove sono io e dopo quando farò finire l'allucinazione magari vi faccio vedere meglio dov'è perché sono ecco guardate è qua tra i tubi e il muletto giallo allora siamo questo gatto che boh cioè non si può far niente col gatto magari se proviamo a entrare nella santos custom no non possiamo fare niente possiamo solo fare mia e basta dai oh ah è giusto che i gatti non vogliono andare nel mare so cosa fare però è un po' lontanino il mare vediamo ma smetti di miagolare io provo ad andare sotto una macchina adesso mi metto no dai allora proviamo ad andare sotto una macchina così per essere investiti di tanto in tanto no voglio aspettatemi no mamma mia perché non va comunque andiamo proviamo ad andare sotto una macchina questa qua non è morto mamma mia che gatto gatto pazzo gatto pardo sotto il pullman muore secondo voi secondo me sì sotto il pullman c'è grazie mi faccio si alza oh mio dio ma che incredibile del gioco incredible bugs mamma mia intanto franklin lì si rialza dopo la botta cazzo fai le flessioni pazzo franklin allora la sanchez sigurina di frank è stata sequestrata ah vabbè comunque faccio vedere oh che è sto macchino lol perché così vabbè non lo so comunque dicevo che il punto per entrare nel nell'allucinazione è esattamente questo anche se andavo in prima persona non era male qua così questo qua comunque se voi molti di voi se lo chiedono perché io veda il mirino così basta schiacciare l'analogico che c'è a destra per ps3 barra ps4 non so quale sia ma credo sia l no rs o r3 boh credo di sì credo sia r3 cioè bisogna schiacciare l'analogico che sta a destra e invece per xbox è sempre l'analogico che sta in basso a destra niente spero vi sia piaciuto il video lasciate un like commentate iscrivetevi e noi ci vediamo